Ruota dei Pixemon Lucky Block dei Pokémon leggendari ragazzi questo nuovo video sarà veramente epico perché ora farò vedere la ruota dei Pokémon leggendari Intanto salutiamo dall'altro lato il bombarci Bomber oggi abbiamo una ruota veramente molto speciale perché qua davanti a noi comparsa una ruota appunto che deciderà il pick finale dei nostri Pokémon Cosa vuoi fare? Vuoi spoilerarti la ora o cosa stai facendo? Togliamola ce l'apriamo dopo dai così la gente dovrà guardarsi tutta quanta la parte di questo video cosa? Tu puoi aspettare un attimo io vorrei farti vedere i due Pokémon che ho trovato Chi è che mi hai rubato per favore? Fammi vedere sarà qualche leggendario devastante Ecco un Suicune e un Meloetta Vabbè ragazzi guardate tutto quanto il video da inizio alla fine perché la sfida finale sarà veramente epica con la ruota che deciderà quali Pokémon potremo utilizzare alla fine Alcuni pick ragazzi sono per i non leggendari quindi magari può capitare che non si possono utilizzare i leggendari alla fine della battaglia Sarà difficilissimo marciando il partito vediamo che Pokémon usciranno in questa sfida Ci ha già rubato due leggendari a bombarmi Mi è uscito un leggendario... Shymie mi è uscito Che non mi è usciva nei pixel lucky block raga Probabilmente da... Secondo me è una ventina di episodi tutti quanti Cioè tu hai messo di doprarmi di Shymie Shymie l'hai messo di doprarmi Io Shymie... In realtà Shymie lo trovo sempre Io mai te lo giuro Non lo so Lunala! Ottimo, ottimo Ho visto che hai trovato anche un Itran te intanto eh Dopo ogni tanto ti tengo d'occhio Ma come fa schifo Itran? Io un Manafee o un Fionno Non lo so distinguere ragazzi Scusatemi Però ogni volta è sempre la stessa storia Ogni tanto mi esce il Team Rocket e mi spavento Eh ma tanto ho messo la difficoltà a zero Quindi non ti può fare nulla Dovremmo tenerlo un giorno il Team Rocket Però non in creativa Quel giorno non è oggi Quel giorno non sarà oggi ragazzi Intanto ho trovato un bel Noivern Poi vediamo un Pokémon al 31 Io onestamente spero di trovare i tutti leggendari sulla ruota tra un po' eh Perché ci sono... Vuoi spoilerarti per caso quali sono le scelte? Dai sì, dimmi le scelte Allora, abbiamo per esempio una pick di 5 leggendari e un Pokémon sotto a livello 10 Due tutti leggendari Quindi in squadra dobbiamo avere soltanto tutti i Pokémon leggendari Poi abbiamo 4 Pokémon leggendari e 2 niente Cioè puoi avere soltanto 4 Pokémon Dopo ti vedrai cosa abbiamo Ho trovato un Palkia intanto Ho trovato un Palkia Te come sta andando a leggendari? Eh, volevi rubarmela Ma vai per favore nella tua... Marci... Eh vabbè, è iniziato a rubarmi Ecco, sapevo io Mi ruba... Marci dai, per favore Vai nella tua isola Non rubarmi Tapu, per favore Chi è che era? Non era Tapulene Cos'era? Era un Dienzi Era un Dienzi? Ho guardato male io per sbaglio da dietro Va bene, va bene, va bene Comunque continuiamo ad andare avanti Ma questa race qua mi sembra che era anche bella lunga Intanto ho trovato un bel Genesect Un Dratini o un Dragonair al 28 Non lo so Ma hai lasciato dietro un Cobalion? Ma povero Dragonite Oh Stai trovando troppi Pokémon forti, eh Datti una calmata Io so Adesso li sto scegliendo un po' Per da catturare Solgaleo Solgaleo Rayquaza Rayquaza, vieni qua da me, per favore Per favore Ah, Marmi Marmi è mio Non puoi usarlo tanto Continuiamo ad andare avanti Un altro Dragonair Ok Continuiamo Quanti Pokémon strani stiamo trovando Nel periodo di oggi Io schifezze Schifezze assurde Come schifezze Comunque tu trovi sempre Ultimamente trovi sempre Rayquaza Sai che c'hai ragione Rayquaza è un Pokémon che trovo praticamente sempre nelle sfide Però Mi deve capitare anche con le mosse Perché non è che Esatto Poi magari mi trovo il Sylvanon ancora al 97 A che livello era? 80 3 Palos hanno trovato un altro Nala Ma se trovo Pokémon assurdi Non ho trovato niente di buono Ho chiamato un Sylvanon al 97 E mi è uscito il Palosan Dall'83 Io non mi lamento comunque Non posso che lamentarmi Va bene Va bene Dai non ci credi comunque Io non ho leggendari buoni Davvero assurda sta cosa Sai Oddio Un altro Palosan Dall'44 Stavo per sbiancare Vabbè Sai com'è Sei sempre stato te Quello fortunato per mesi In queste sfide Ogni tanto Potrebbe anche darmi a me Questa fortuna Ti ricordo che ho vinto Le ultime due di fila Vedo che hai trovato anche un Landorus Dai non ti puoi lamentare Hai trovato un bel Landorus E ti lamenti? Qua non vieni da me Intanto Io voglio trovare qualcosa di più Un po' più sostanzioso Un po' Alla sul Galeo No niente Guarda Tiranitar Trovano dei miei Pokémon comunque Non ti puoi lamentare Niente niente Disastro Disastro Shymn Shymn Hai trovato anche La race di Shymn Manca poco però mi sa E non è che ci manca più di tanto Alla fine A te manca ancora tanto A me manca poco Ah ok Ottimo Ottimo Mi sei frizzato Pixelmon Un Pokémon altrimenti Ti frizzi Poi troviamo Un Arceus Cosa mi succede? Mi esplode il PC Adesso trovo Arceus Serialmente Ho però un Latias Che non è un Pokémon Di cui mi posso lamentare Vieni qua Latias Per favore Ok Diamo un occhio Marmi ha finito Marmi ha finito la race Ottimo 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 Vediamo Quasi Quasi Ma ne manca uno Ok Vai Apri il tuo ultimo Nell'uno non c'era niente No Non ci credo Ogni tanto succede che strano nulla È vero Aspetta che intanto io apro gli ultimi Lasciandomi belli di fretta Regirock Non vale aprire i miei Ti controllo Ne aperti due Non vale Smettila Tu sei sfortunato Ok Mamma Dasknoara al 55 Anche questo qua Ogni tanto Regigigas Yes Regigigas Raga Anche Mamma mia Che pic Vediamo 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 Gli ultimi Potrebbero emozionarci Vediamo l'ultimo Niente Un Pokémon a 9 Te lo puoi anche tenere Vabbè Ci potrebbero uscire Magari Magari esce tutti i leggendari E potrebbero equilibrarsi Quattro Pokémon leggendari Invece per marci Che Pokémon mi chiami Marco Ti chiamo il 4 ti chiamo Vediamo tu cosa mi chiami Io ti chiamo il 5 Ok va bene Siamo pronti 3 2 1 Vai con la fight Il mio è un Rayquaza Vediamo il tuo cos'è che è Vediamo vediamo qua ci esce Darkrai Darkrai è pesante Vediamo Vediamo cosa abbiamo Vediamo Ok Ti ho tolto Unca Mi hai fatto Bellissimo Mi hai fatto Mi hai addormentato però Sì No mi ha addormentato Mi ha addormentato No me l'hai Yes Bravo Rayquaza Emozione Mi fammi sentire quella cosa in più che hai Rispetto a tutti quanti gli altri Stiamo in waiting da un'ora Perché Rayquaza ha preso il volo E adesso Planerà sul tuo Darkrai O Darkrai Chiamatelo come volete E ti disintegra il tuo primo Pokémon Come ti permette a prendere un Cresselia Eh Vediamo quanto mi fai di danno Quanto ti faccio di danno Eh ma se mi fai ancora volo Quasi quasi me lo tiri giù Calma perché Cresselia Non mi piace Dottore Io ti metto in campo Una Iveltal Perché non mi piace Cresselia Questa è davvero pesante Iveltal l'ho trovata all'inizio E mi ero completamente dimenticato Puri di averlo trovato Nei pixel lag Quindi Meno male che ce l'ho Sei sempre un attacco davanti a me Vai fall play Nooo Non ti ha distrutto Vabbè T'ho fatto un T'ho fatto un No No ho sbagliato Malamar Ma da dove l'hai tirato fuori Questo Malamar Io devo capire Io devo capire Perché mi mette Mi fa le mosse a caso Cosa faccio con Malamar Non lo so Vabbè Tanto non ti farò niente Esatto Però mi sono trovato Un Malamar a 75 Che è un È un brutto cliente Se posso chiamarlo così Vita rossa Malamar Forse dovevi attaccare Prima io ancora Iveltal Iveltal È morto Ok Un attacchino Comunque te l'ha Te l'ha piazzato lì Ti metto un bel panchia E vabbè Io oggi Mi va proprio di sfortuna Queste ultime volte Mi va proprio di sfortuna Cosa posso fare Oh ti giuro Non potevi immaginarmi Che tu ce l'avessi Davvero Questo Unexpected Intanto Non è rimasto in vita Vero no è morto Ok ottimo Ti ho fatto fuori Tre leggendari E Malamar Mi sembra Tu O hai Dragonite O hai Terranitar adesso Ah Hai Veltal Hai Veltal Da dove l'hai tirato fuori Il dottore Iveltal Dai forza Su vediamo un po' Se riesci a buttarmelo giù Qualsiasi pokemon Mi metti Te lo tiro giù Esatto Ok Attacca per prima Ti prego Regigigas Emozionaci E fai si che questo attacco Regigigas Esatto È solo normale Andiamo in waiting Attenzione Marci sta pensando Alla sua mossa ragazzi Sta pensando Alla sua prossima mossa Non te l'aspettavi questa Assolutamente no Allora Spettiamo un attimo Vediamo che pokemon Dai forza Sto pensando di pokemon Forza Forza muoviti Sul galeo Ti prego Attacca per primo Va bene Va bene Rimani No anche con un ps Poteva rimanere Allora Rayquaza Vola ed emozionaci Rayquaza Vola ed emozionaci Togli di quel poco Che gli manca Questa è una bella battaglia Perché i tuoi pokemon Non leggendari Erano quelli che No No Oddio 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 E attacca prima il tuo però Si attacca prima il tuo No E ancora No è ok È morto Ok Aiveltal È rimasto soltanto Ti è rimasto soltanto aiveltal Se non sbaglio Che ha Che ha appena balzato No Che hai paralizzato Ho sbagliato Ho sbagliato a schiacciare Invece di fare Quello a sinistra Fato quello a destra Ok Dai Dai Vita rossa Se mi fai un critico Vinci te Ho vinto No C'è da ammetterlo Vabbè Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi con il tastino Lo so qua sotto Passate il canale Buon marci Con il suo Le schede per altri video Anche qua davanti Altri video compagno adesso Da Marche è tutto Ciao Ciao